E' possibile spiegare l'infinito di Dio con un seme piccolo, minuscolo? Il Vangelo di oggi ci risponde a questa paradossale domanda. I semi, cioè noi uomini, siamo fin dall'inizio nelle mani di Dio. I semi, grazie alla cura e alla presenza amorevole di Dio, crescono. Noi viviamo grazie a Dio, grazie alla sua cura silenziosa. Spesso non ci rendiamo conto di questa presenza invisibile, ma molto presente e molto sensibile per la nostra anima. Spesso diamo per scontato i giorni che passano. Spesso viviamo in una routine e in una abitudinarietà che ci fa perdere di vista la presenza di Dio nella vita. Il granello di senapa di cui parla il Vangelo oggi è l'uomo. Rappresenta l'uomo che crescendo nella fede diventa così un albero. Così molti riposeranno in lui. Oggi c'è bisogno di questo. C'è bisogno di una presenza cristiana che ristora e che fa ripartire. Dobbiamo fare questo passaggio da semi ad alberi, grazie alla fede. Dobbiamo fare il passaggio da figli di Dio a testimoni adulti di fede. Ecco la missione del cristiano. Spesso o siamo sfiduciati, o siamo scoraggiati, oppure cerchiamo di fare troppe cose pur di ottemperare una certa evangelizzazione. Per essere magari cristiani migliori, o creare sempre cose nuove in ambito parrocchiale e in ambito ecclesiale. È giustissima una creatività evangelica. Ma soprattutto ognuno di noi è chiamato a gettare il seme, a portare il Vangelo, senza pretendere da un lato di vedere frutti e dall'altro invece di essere rassegnati e passivi come se ormai il mondo avesse messo da parte tutto ciò che è fede e spiritualità. Il Vangelo di oggi ci dimostra che dobbiamo avere il coraggio di parlare di Dio, di annunciare il Vangelo nei luoghi che abitiamo, senza paura. Poi sarà Dio a far germogliare il seme che gettiamo. Evangelizzare è sinonimo di amare, ovvero voler portare la gioia di Cristo nel mondo. Dobbiamo dipingere la vita con i colori della fede gioiosa. Dobbiamo profumare le giornate con la fraganza del Vangelo. Dobbiamo seminare il nome di Gesù nelle nostre attività quotidiane. Gesù ci invita a fare il possibile, a non essere rassegnati. L'impossibile lo farà lui nei cuori. Il grande Sant'Ignazio di Loyola, il fondatore dei Gesuiti, diceva Agisci come se tutto dipendesse da te, sapendo poi che in realtà tutto dipende da Dio. È importante evangelizzare con questo spirito, metterci tutte le nostre forze, il nostro coraggio, sapendo che il passo fondamentale lo fa Dio toccando i cuori di coloro a cui noi parliamo di Gesù. È importante evangelizzare senza annacquare. Mai avere paura di dire la verità. I Santi, ricordiamocelo bene, sono peccatori che non sono mai scesi a compromessi con la verità. Invece oggi è sempre più frequente edulcorare la fede, far passare tutto come permissivo. Ecco, il cristiano deve avere invece una vita diversa, essere orientato alla verità nonostante le proprie cadute. Quindi, anche se la vita è piena di cadute, di distrazioni, di errori, non bisogna mai perdere il ricordo dell'opera che Dio ha fatto di noi. Nonostante la nostra umanità, Lui si fida di noi come testimoni. Questa fiducia dobbiamo trasmettere agli altri. Facciamo incamminare gli altri su sentieri di speranza. Papa Francesco ricorda che il regno di Dio cresce in silenzio, senza dar spettacolo. Bene, il Vangelo di oggi allora ci fa comprendere come la vita fiorisce solo se innaffiata dal Vangelo e curata da Dio. Vivere la vita alla luce del Vangelo e avere una vita che Vangelo vivo. La nostra vita è un quinto Vangelo da scrivere. Noi siamo pieni di miracoli, ma spesso non li vediamo più perché il mondo soffoca l'opera di Dio in noi. Pertanto, ogni cristiano, alla luce del Vangelo di oggi, ha un doppio compito. Il primo è vivere seguendo il Vangelo, cercando di non cadere nella mondanità, nelle trappole che il mondo ci mette davanti, quelle insidie che sono di edulcorare il messaggio della fede. E il secondo compito è di portare le altre persone a vivere una vita colma di Cristo. Oggi è quanto mai urgente testimoniare il Vangelo con la vita, con le opere e con la parola. dobbiamo annunciare che Cristo è il nostro Salvatore. Tutte le persone che sono disorientate, che cercano la vita, che cercano una via e che cercano la verità, dobbiamo annunciargli Cristo, Lui che è la vita, la via e la verità.